Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come Momento difficilissimo per l'ex protagonista di Uomini e Donne che, sui social, condivide il proprio dolore svelando la verità Momento difficile per un ex tronista di Uomini e Donne che, dopo aver vissuto la sua favola d'amore in tv e che è durata diversi mesi, sta affrontando la fase della fine della favola d'amore in cui ha creduto fortemente Dopo settimane di rumors e indiscrezioni, infatti, l'ex protagonista del programma di Maria De Filippi, con una storia pubblicata su Instagram, non solo ha annunciato la fine della sua relazione, ma ha anche svelato di aver chiesto aiuto a professionisti per superare la fase difficile È una confessione toccante quella dell'ex tronista di Uomini e Donne che ha così scelto di essere totalmente sincera con i fan che temevano un annuncio come quello che è poi effettivamente arrivato Andrea Nicole torna a single, lo sfogo dell'ex uomini e donne.l'ex tronista di Uomini e Donne Andrea Nicole che sta affrontando un periodo difficile per la fine di un amore in cui ha creduto fortemente Al termine del percorso sul trono di Uomini e Donne, l'ex tronista ha scelto Ciprian con cui ha vissuto una storia per diversi mesi Una storia che, però, oggi è finita come ha annunciato lei stessa Eccomi da voi. Probabilmente per qualcuno questo sarà un disastro preannunciato, per altri forse no, come non lo era per me Nelle ultime settimane mi è stato chiesto senza sosta cosa stesse accadendo ma in quel momento non lo sapevo bene neanche io, inizialmente perché non c'era nulla di definito e non avrei saputo cosa dire Successivamente perché negare a se stessi una cruda realtà crea l'illusione che questa non esista o che sia meno dolorosa, e alla fine mi sono chiusa nel mio silenzio come spesso faccio, allontanandomi da tutto e tutti per raccogliere pezzi di me rimasti chiedendo aiuto a chi ha le competenze per farlo, ha fatto sapere l'ex tronista Una fine che l'ex tronista sta affrontando con l'aiuto di persone che ha la competenza per farlo per tornare presto in pista e riprendere in mano la propria vita So che era una storia nata in un programma televisivo e per questo motivo c'era la voglia di sapere cosa stesse succedendo ma la realtà è che non volevo e non potevo dire a voi cose che fino a quel giorno fa neanche nella mia testa erano chiare Ora lo sono e l'unico modo per proteggermi e tutelarmi era proprio quello che speravo non sarebbe mai accaduto, la fine della nostra storia, ha concluso Andrea che è tornata single così come Eugenio Colombo e Francesca del Taglia Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità Arrivederci, ci vediamo al prossimo video